Allora, buongiorno a tutti, io sono una scena di patologia generale a portata di Cina e la cittadina di questo punto e mi occupo, oramai da infatti, di ricerca di riscardo. E quelli che dicete che ne ho fatto il laboratorio, che infatti non stanno riasciando dal live. Ora, il motivo per cui io sono qui oggi è, diciamo, un fecce. Scusate, sono stati decadati. Ecco, fecce. In un altro punto perché, come diceva la professoressa prima, quello che mangiamo è stato di spesso di malattie. E le malattie legate all'organizzazione sono essenzialmente due. Le malattie canzio vascolari e il cancro. E ora, in questo momento, il sistema di intervento è stato rinforzato come alcuni cibi sono in grado di prevenire il cancro e altri cibi sono in grado di, invece, favorire l'accontato del cancro. E cercheremo di capire, almeno a questo passo a tempo, perché questo succede. Ma sono qui anche perché io stengo a perdere molto la comunicazione scientifica curata, la comunicazione scientifica, perché, vedete, la ricerca è un mondo pienissimo, un mondo di attismo, in cui tutti i ricercatori cercano di impegnarsi per trovare una presunzione che possono migliorare la città dell'uomo. E ogni persona, un cittadino, può partecipare sia direttamente, voi siete giovani, da poco vi dovete, magari ci tenete di fare il gioco col medico e dedicati a questo tipo di attività, ma anche non direttamente a questo tipo di attività. Quello che, naturalmente, è quello che faccio, è che la società italiana che si tratta con il cancro in Italia raccoglie ogni anno 60 milioni di euro. Considerate che un altro paese, forse un po' più civile in Italia, in Italia, in Italia, in Italia, grazie per il registo, che ha preso colpo a questa popolazione in Italia, raccoglie 700 milioni di sterline all'anno. Cioè circa 15 volte di più rispetto a l'Italia. Ora, noi, in Cattà, abbiamo un tempo di persone. Se un po' di noi metti in te, non tanto, 10 euro, sono andata in cinema all'anno, sono in campagna. Noi raccogleremo tutto quello che viene raccoglato sul territorio nazionale. E questo è molto importante, molto importante soprattutto per noi ricercatori che lavoriamo in campagna, perché i soldi vengono distribuiti nelle regioni in maniera specifica. C'è i soldi che vengono raccolti in campagna, sono in campagna, sono in campagna, sono in campagna. E quindi è importante che vi giunga questo intervento. Ma mi fa tanto ridere questo sul campo. Allora, non è interessato, è scattuto. Veramente, perché io non mi interessato, poi io sentito. Non posso essere disturbata da noi. Perché siete di una parola, siete di una parola. Sentite, ma c'è un problema in televisione che i ragazzi non hanno riuscito a lavorare sulle scuole, passate in dubbio, uno vi fa una domanda, uno è il giornalista, voi sapete rispondere. E adesso che è una cosa importante, vi fate tutto questo. Adesso non pensate, potete sentire, così potete anche rispondere. Allora, se non c'è delle prestazioni, c'è delle prestazioni, c'è delle mani. Io vengo a fare delle prestazioni. E' vero. Allora, siamo nel... In pochi, in pochissimi, dai, in pochissimi, cerchiamo di capire, spero, che con è il campo, in quanto è, Scusate, noi ne stiamo andando a parlare, ma non vogliamo dare scientificamente che cos'è. E quindi cerro di spiegare parole felici, veramente non spiegote verso un pubblico di estese, che non è il campo, perché fine. E come possiamo contarlo attraverso la ricerca. Allora, per questo punto noi abbiamo diversi tipi di campo. Noi per il campo intendiamo i maligni, e per i tumori maligni intendiamo il tumore che è il metastatismo. Un tumore peccinio nasce in una zona e si rimane incontinuato. Questo significa che è curabile, perché noi sulla chirurgia lo possiamo portare. Vi chiederei che i campi, o tumori maligni, se bene possono essere accortati. Questo danno che è l'asta presentata, e questo è la rea casa della morte dei pazienti che è perfetta per questa malattia. Di nuovo, il campo è una proliferazione alterata delle cellule, alterata in vari pochi, non solo quando si è accortati, ma anche quando si è accortati, come vedremo già poco. E si può influenzare in moltissimi ordini. Noi parliamo di carcinomi quando si sviluppano tumori in ordini con attenzione epiteriale, come per esempio il polvone, la macchina, il polvo, la vescica e la rossa. Ragazzi, considerate che questi cinque carcinomi, cinque terrestri anni, condividono più del 90% di tutte le tessate molte per biografia. Stato detto che vengono dei fili di grazi e attraversivi, di killer, ed è quelli verso cui la maggioranza della ricerca è stata diretta. E questa ricerca veramente ha dato dei risultati straordinari. Vi voglio farmi messo molto guardare, vent'anni fa, se sopporte anche dieci anni fa, se a una donna che si va, si è investigata, la sinona della confezza, la sua probabilità di essere viva dopo dieci anni era uno su tre. Cioè, ogni tre donne non morìva, e cioè, sopporte di viva. Ogni giusto, la probabilità di essere di riferire di viva dopo dieci anni, da vari anni, una donna a questa, a questa, a questa, di accettare la bandetta, è quasi del 100%. E questa differenza, queste due persone che sono state salvate, sono state salvate grazie al risorto della ricerca. Ora, il caso non è una malattia che si sviluppa da un giorno in un altro. C'è bisogno di un periodo di tempo, si immagina, che la gente, una cellula normale, una cellula tumorale, abbiamo bisogno di circa una decina di anni. e questi anni sono necessari perché le cellule normali assumono mutazioni a livello del genere. Esatto, il caso è solo una malattia di cui sostanze tossiche, ma anche il metabolismo del nostro esercicello, determina, assumono mutazioni a livello del genere. e questi geni che controllano il funzionamento delle cellule, trasformano, trasformano la cellula stagna e la cellula stastica. C'è bisogno di cui vuole accontare, che possono... Ora, noi abbiamo dei test, abbiamo, siamo stati a partire da casa travi, e durante l'evoluzione abbiamo trovato questi geni per portare, queste relazioni di insulti che ci vengono dall'eterno e siamo capaci di riparare le relazioni. Nel caso di lavoro abbiamo anche un tema di controllo. Per cui se nel mio cellulo si accura un danno che non è riparato, i nostri acetti sono capaci di suicidarsi, cioè di morire in maniera, diciamo, consapevole. questo perché, per dire, con i denti, tutti i cellulari non imposta il desiderio di ogni singola cellula, ma anche con i denti che è il vivo, lo so, e quindi, in una popolazione, se è una cellula che accogge, si riferisce a comportarsi male, si è riuscita. dentro la salva guardia e ha detto che non è così che si può fare. Purtroppo a volte, però, queste sensazioni vanno proprio a colpire i geni, per esempio, che controllano il suicidio e quindi questa cellula invece di suicidarsi continua a crescere e una altra sensazione che diventa una cellula sottomorale capace di crescere in maniera, diciamo, controllata. e da tutto di vista, diciamo, proprio più sottomorale, quello che succede nel stesso tempo, questo, vedete, è presente nel criterio di rinvento e in una prima cellula che ho fatto io lo so, portare la prima associazione, per tanto, questo viene a fare che questa cellula bisogna crescere in maniera più, diciamo, robusta, più accelerata rispetto ai loro compagni, compagni anche con una sensazione, perché questa sensazione dà un'altra spinta accelerazione alla crescita e poi è una certa sensazione, ecco, vedete, questa certa sensazione dà un altro partaggio, il partaggio iniziale a invadere i tessi e i cittadini e fine l'ultima sensazione fa la cosa importante perché nel quattro i tumori siano capacissimi di vivere anche in condizioni piuttosto e di crescita in condizioni piuttosto stagevoli comunque le cellule tumorali non si togge del sigilo e nessun tumore non ha mai rispatti e le cellule tumorali non si imparano a farla crescere i papi all'osso interno questo evento è un evento importantissimo perché è quello che il partaggio e poi il tumore porta a crescere e diventare evidente clinicamente tra l'altro il fatto di richiamare i papi all'interno del tumore è un importantissimo se la donna si è abitato perché cosa si avrebbero questi vati che le cellule tumorali si distattano dalla massa iniziale entrano nei vati vanno in giro dei cittadini e vanno a colorizzare dei testuti all'interno e vedete si vede purtroppo magnissimo questo è piuttosto facile questo è un capitale normale e questo è un capitale che è stato diciamo sottato da la cellula di pugnani e rovetto dalle cellule tumorali a aumentare di numerose in maniera da arrivare il tumore e apportare le cellule di ucci ed ecco quello che succede nel tessuto la cellula il tumore rimane piccolino che non è capace di chiamare i dati della procedenza una volta che è chiamato questi dati può crescere questo fenomeno ragazzi talmente importante che alcuni studiuti pensano che il modo peccurale comunque devono quello di bloccare la riscita dei puntali e quindi il cambio è benissimo rotto come dicevamo prima perché queste cellule sono in grado di viaggiare o per il matto per dare metà per 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 esempio un tumore a carico dei melancivi un caso a carico dei melancivi quello che si chiama medanopone perché si so da le figurative origina per esempio dalle cure della l'altra ciò fa contare poi metà per livello epastolo per livello cerebrale e con questi tre risaggi vorrei lasciarvi ora perché è così importante tenere la ricerca perché la ricerca si indirizza e si servisce a queste tre già grosse branche eccetera nella prevenzione quello della diagria più precoce è quello della terapia infatti in terapia di capire quale sono le capo di capo e quindi fa sì che possiamo assumere dei comportamenti che diminizzano il gruppo dentro il sviluppo di capo ci permette di fare di altro più precoce cioè di capire quale una scelta corale e a quale quelle parte iniziamo quando è curabile e soprattutto ci permette di identificare nuovi fabbrici vi voglio fare un esempio che è quello di carcinoma nella pannella noi abbiamo capito nei tutti i piatti che il carcinoma nella pannella ha compilazione di rischio fortissimo l'obelità di questo infatti le tante progette di carcinoma nella pannella si è molto attraffato penso al ripio di ciamolo dopo guerra perché il rivolto di massime cioè indice di massa corporea vale a dire quanto pesa in media una popolazione è orientato è orientato il peso della popolazione è orientata la felicità in società di carcinoma della pannella la ricerca ha per esempio di iniziare a individuare i carcinoma della pannella sono piccoli grazie a programmi di streaming come per esempio la mammografia 40 anni e questo è vero per tanti altri per esempio il carcinoma della ciascice otterrino il carcinoma della rossa tanto che adesso nel più di 50% dei casi i casi vengono da partire vengono a di di quando il senso scientifico chirurgico è sufficiente attualire e la azienda non è andare contro la prima della vita e infine la ricerca divolta come terapia moltissimi nuovi fatti sono stati sviluppati negli ultimi anni ora quali sono le attitudini di vita che la ricerca ci ha insegnato ad assumere o non assumere le realtà che c'è il carico è utile che vi racconto perché il fumo è così dannato diciamo che il 90% di alcuni tipi di cancro del pulmone sono esclusivamente prodotti al fumo se appreggia il fumo nelle questione del testo di fumare quel tipo di cancro comparirebbe con il per il virus ma anche la in tante molto importante a proposito di questo vi voglio cercare di spiegare perché è in tante ci sono poche ragioni alcune no con le poche sono comprate più recentemente voi sapete di mangiare in testatura protegge il sviluppo dei tipi e protegge perché la truce della testola sono viste di fibre e queste fibre hanno una razione di corretta ridima innanzitutto trattengono i grassi e quindi permettono un miglior assorbimento di dei grassi a tutti i grassi sapori sono quelli che sapere accenate e per esempio la la caccia dell'anamena sia molto associata all'unibilità sicuramente le fibre abbassando l'avvolto di grassi abbassano per comprare il caccio dell'anamena le fibre trattengono tutte le grazie ma che eventuali contaminanti sono presenti dei cibi che possono avere un'azione carcerosa alcuni cibi però non ci lo leggono ma ci facitano la infarcia di gas e altri cibi azubicati ma l'altra che è scoperta è stato il fatto che alcuni cibi contengono degli antibiotici naturali adebiotici combattono specifiche riflessioni che possono nel nostro stato rassuritziale che possono indurre il caso la nostra parte è il fatto del acro d'astrico cioè acro che viene allo sotto e produzione da parte del baffetto che si ha il baffetto che è quello che cambia luce la testa e altri cibi contengono degli adebiotici che combattono l'infessione da parte dell'inibito baffetto al cibi alcuni studiosi per le tese sostengono invece che altri cibi favoriscono la infezione e in particolar modo la carne favorisce questa infezione mentre le verdure in particolar modo che li proteggono da luce di luce l'ultima sia positiva è appunto l'allianza di precoce abbiamo parlato della mammografia e molto importante un passaggio speriamo di poco tempo di riuscire a poter pensare il tempo come voi sapete probabilmente e ci sembra che soprattutto a questa fascia è stato sviluppato un vaccino contro il carcinoma del servizio del vita questo è anche questo come è questo sono un guardato la infezione in questo caso c'è non di il virus il non di loramirus ed è sviluppato un vaccino con il loramirus per cui il loramirus parte della formazione femminile va sviluppato contro questo virus e quindi si abbassinano il rischio e non ci sarà più bisogno di scrinare il liquido cervicale della cittura dicendo del morale l'altra diciamo noi pensiamo sulla determina che è il archietti e quindi un altro importante scrittime che avete già fatto è questo grande settore per con la associazione delle le corsaglie per diciamo arregnare il senso di piacinone della rossa e questa è tutta l'idea di positiva questo è vedete la copertina è la nostra più importanza protocato mondiale di time di time party circa 10 anni fa il primo passo che dicevi il fu approvato e la questa approvazione che è lo dito di materia che è di la di la di le città mi è la copertina di questa rivista importantissima da allora che voglio lasciare questo commentato dopo questo banco intelligente negli ultimi dici anni perché sono ancora grandi altri per un trattamento di tanti tipi diversi di tumore e circa un metro di pass è stato trovato un spaz che è stato filiato solo dal nostro gruppo ai soldi che abbiamo ricevuto e fin anche che abbiamo ricevuto dall'altro per trattamento di un fisico tumore della vita e con questo vi lascio di attra Grazie.